Questi Convergent Audio Technology GL1 costituiscono una spettacolare coppia di amplificatori di potenza a triodo valvolare di fascia alta dotati complessivamente di 16 valvole 6550, 4 valvole 6922, 2 12AU7 e 2 12AX7. Hanno una potenza di 2% Watt a 4-8 Ohm in classe A. Gli amplificatori sono stati sottoutilizzati e in tutti i casi tutte le valvole sono state sostituite e sono praticamente nuove. Sono stati attentamente analizzati nel nostro laboratorio specializzato e sono stati portati a nuovo. Il peso di ciascun amplificatore è di ben 80 kg, in dotazione delle teche di protezione in vetro massiccio su misura. I monoblocchi a triodo GL1 sono il frutto di una filosofia innovativa e di una fanatica attenzione ai dettagli che ha reso famosa l'azienda Convergent Audio Technology. Anni di ricerca, test e ascolti hanno reso possibile un amplificatore di potenza dalle prestazioni incomparabili che è stato acclamato dai recensori di tutto il mondo. Sono conservati in perfetto stato. Grazie a tutti.